Io ho conosciuto il dottore Amaturo quando venne a dirigere la mobile. Ci sembrò strano che lui arrivasse in un ufficio che aveva sempre espresso tra le fila dei suoi funzionari il dirigente. Amaturo veniva con la scorza di grande investigatore, persona che aveva però coniugato le due esperienze, perché lui aveva fatto grandi indagini e poi però era venuto a Napoli, Napoli città, e aveva fatto molto ordine pubblico. Ti gli dissi adesso sei arrivato in un punto importante della carriera di funzionario e soprattutto hai la possibilità di garantire la tranquillità della città di Napoli. Fece ovviamente un ottimo lavoro. Sai qual è l'impressione? Ne ho ricavato, no? Che lui si ispirasse a Magrè, perché era una persona distaccata come Magrè. Una persona che però nell'attività che svolgeva pigliava le cose a cuore. Antonio Amaturo aveva un modo particolare per fare delle inchieste e lui riusciva a fare una sorta di maieutica, perché dava la possibilità agli altri di raccontare quello che lui voleva sapere. Sapeva trarre e faceva in modo che noi traessimo da queste esperienze in cui ti sporcavi le mani, perché poi qualcuno ci diceva e lui ce lo ripeteva, bisogna sporcarsi le mani per non sporcarsi l'anima. Amaturo dal punto di vista professionale dava degli indirizzi, ma lasciava abbastanza libero poi il funzionario di muoversi con la sua sezione. Fare un'operazione per brillare un giorno non serviva a nessuno e Amaturo questo non lo voleva. Quello che ha lasciato è una capacità di non essere minimamente condizionato e questo abbiamo fatto noi, abbiamo lavorato senza condizionamenti. Il dottore Amaturo, giungendo alla mobile con il suo atteggiamento, aveva creato uno stile a cui poi si sono ispirati anche i suoi successori. Il giorno della finale dei campionati mondiali, l'Italia stava giocando con la Germania, quindi ognuno di noi, e io compreso, eravamo attaccati al televisore. All'inizio, a metà del secondo tempo, arriva la telefonata di Amaturo, scendi in questura, dobbiamo andare a prendere quello che ha ucciso un poliziotto, Prata Francesco. Questo omicidio erano state due persone, una era stata presa subito, l'altra evidentemente si era costituito, da quello che avevo capito per telefono, si era costituito ad Amaturo per la persona di Amaturo. Rimasi tutta la partita a casa, scendemmo tra la folla ma con i falchi, praticamente quasi quasi avevo rispettato la richiesta di Amaturo di arrivare subito, grazie a loro. Ma Amaturo, diciamo, capi subito, dice, ognuno, si è vista la partita. Una domenica ero funzionario di turno alla squadra mobile e lui mi chiama a telefono, mi fa il nome di un pregiudicato conosciuto e mi chiede di controllare al terminale se aveva provvedimenti, diciamo, cautelari a suo carico. Ancora prima di far fare il controllo al terminale gli dico, le mando subito una pattuglia, vuole che venga io? Lui dice, no, 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 dimmi solo se è ricercato, perché se ha provvedimenti me lo porto io da solo, ci penso io. Quindi questo evidenziava un coraggio che non appariva nei suoi modi. Mi affidò insieme al dottor Umberto Vecchione l'incarico di andare a fare la perquisizione al famoso castello di Cutolo. Noi andammo alla testa di una trentina, quarantina di uomini, non mi ricordo, ne scaturì un conflitto a fuoco, ne scaturì anche un incidente nel corso del quale arrestammo Sabatino Saviano, che era un luogo tenente di Cutolo, ma soprattutto trovammo una preziosissima documentazione. Nel corso di quell'operazione c'era un summit del gruppo che, diciamo, quelli che affiancavano Rosetta Cutolo e quindi erano i principali esponenti della nuova camora organizzata. Ammatura ci affidò questa operazione, che era un'operazione importante dal punto di vista del momento, quindi scassammo la macchina, però Ammatura non ci cazziò perché la macchina era servita per arrestare Sabatino Saviano. Da un lato c'era l'uomo funzionario, dall'altro era proprio un padre e lui mi ha sempre trattato in questo modo un po' filiale. Ammatura era legatissimo alla famiglia, lui parlava in maniera molto tenera. In famiglia era un ammaturo presente nel poco tempo che aveva a disposizione per essere presente, riusciva a dare quel senso di serenità alla sua famiglia, nonostante che ogni giorno, quando metteva il piede fuori dalla casa, correva dei rischi. Quando fummo chiamati e andammo a Piazza Nicolamore e lui stava in macchina, lui e Paola. Interruppi le ferie e venni al funerale che ti tenne a Santa Chiara. Ricordo questa chiesa straboccata di gente, quello che significava che lui aveva dato qualcosa alla città. Io mi ricordo bene il giorno in cui fu ucciso, un giorno di caldo, un giorno di luglio pieno. Rimanemmo essere fatti, ma ci riunimmo e cercammo di capire. Abbiamo lavorato ininterrottamente per oltre dieci giorni, giorni e notte. Difatti riuscimmo a individuare chi erano quelli che erano intervenuti per sostenere i terroristi. In quel frangente c'era stato uno sposalizio che non si era pensato prima, cioè tra la criminalità organizzata, quella della sanità e dei tribunali, con il terrorismo. Lì è una cosa che poteva capitare ad ognuno di noi. È capitata a lui e non doveva accadere. Di Ammaturo mi è rimasto tutto. È il momento forse più simbolico di tutta la mia carriera. Che i successi, le cose positive, negative, vengono e passano. Ma a 29 anni trovarsi il proprio dirigente, così... È un ricordo che non può essere assolutamente affievolito.